Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo alla sede di Gruppo Carmeli a San Zanonaviglio per presentarvi la nuova Dacia Spring 2024 nella versione Espresso Electric 65 in questo bel safari. La Dacia Spring rimane una delle auto elettriche più accessibili e popolari in Europa. Questa nuova versione è più performante e moderna rispetto alla precedente. Con questo allestimento abbiamo un motore più potente da 65 cavalli che migliora la guida in città e nelle strade extraurbane. La batteria resta da 26,8 kWh con un'autonomia fino a 305 km nel ciclo urbano, ideale quindi per la mobilità quotidiana. Le dimensioni compatte e l'ottima manovrabilità rendono questa sedicar perfetta per l'ambiente urbano mentre l'altezza della terra e le protezioni sotto scocca le consentono di affrontare anche percorsi più incidentati. Dal punto di vista estetico la nuova Spring sfoggia un design moderno e accattivante, un adattamento alla nuova linea Dacia introdotta con Duster. Troviamo infatti anche qui i nuovi gruppi ottici LED a forma di Ypsilon e un paraurti ridisegnato con un design più minimal. Come lo scorso anno poi troviamo qui al centro la presa di ricarica nascosta sotto il logo Dacia Link. Complessivamente possiamo dire che quest'anno Spring si è spostata piuttosto che da SUV, nonostante abbia mantenuto una notevole altezza da terra, i passarruati allargati e lo schedo posteriore. Restando quel posteriore notiamo la grande fascia sul portellone che si unisce ai nuovi gruppi ottici che anche in questo caso sono a forma di Ypsilon. I cerchi da 15 pollici sono esclusivamente per la motorizzazione da 65 cavalli. La nuova Spring infine è disponibile in sei colori, bianco, verde, beige, grigio, rosso e blu. Anche gli interni sono stati ridisegnati seguendo la nuova linea Dacia conferendo un ambiente funzionale e minimal con finiture essenziali ma curate. Troviamo quindi il nuovo volante e l'interfaccia aggiornata con un layout semplice e moderno che dà un tocco di freschezza all'abitacolo. I sedili sono in tessuto bicolor con cucitura rossa e stanno molto bene con i nuovi interni. Il sistema di infotainment che troviamo qui è optional ed è lo stesso che troviamo sulla nuova Duster quindi un sistema touch da 10 pollici con la possibilità di ricevere aggiornamenti over the air e la compatibilità con apple carplay e android auto. Spostandoci sotto poi troviamo le nuove bocchette dell'aria a forma di Ypsilon la gestione dell'impianto di climatizzazione che mantiene i controlli analogici e due prese usb c. Nell'abitacolo poi troviamo diversi porta oggetti tra cui questo dal lato del passeggero ereditato dalla nuova Duster. Infine notiamo la leva del cambio completamente ridisegnata con un design decisamente migliore. Passando al bagagliaio abbiamo una capacità di 308 litri che diventano 1.4 con i sedili abbassati. Non male per un'auto lunga solo 3,7 metri. Le motorizzazioni sono due 45 e 65 cavalli che condividono lo stesso pacco batteria da 26,8 kWh. Se cercate un'auto elettrica economica, versatile e da look rinnovato, la Dacia Spring 2024 è sicuramente da considerare. Non dimenticate che il gruppo Carmeli offre una serie di soluzioni per la ricarica, dalle smart card per le colonnine pubbliche alle wallbox domestiche con sopralluogo gratuito per l'installazione. Grazie per averci seguito, ti invitiamo a passare in salone per un test drive e scoprire di persona la nuova Dacia Spring 2024. Ci vediamo al prossimo video.